Il numero 219 Renzo Pesaresi Alza le braccia La numero 253 Si tratta di Ilaria Lombardo Della Vigili del Fuoco Ilaria Lombardo Né 19 né 47 anni Ma sei ormai da tempo protagonista del mondo Del Gran Fondo Protagonista anche qui in questo Giro d'Italia Amatori Sì Ho fatto la Gran Fondo Ho fatto anche giovedì Prima del Giro Ho fatto la 5 Colli Purtroppo sono arrivata seconda E poi sono andata qua al Giro Sperando di far bene Ieri sinceramente Con l'acqua che è venuta Ho avuto un po' di timore Poi oggi con la salita Mi sono sbizzarrita Un recupero La conquista della maglia di leader Della classifica femminile Domani c'è comunque da difenderla In un'altra tappa altrettanto impegnativa Sì Spero non succeda niente Che vada tutto bene Domani E di riuscire a difendere la maglia E alza le braccia La numero 253 Si tratta di Ilaria Lombardo Ho avuto un po' di timore Grazie a tutti